Musica Raffica di denunce a Castelvetrano Processo Denise alle battute finali Marsala contesta Matteo Salvini costretto a rinunciare al comizio Destinati circa 2 milioni a Castelvetrano per le zone franche e urbane Parte a Mazzara la manutenzione straordinaria delle strade Verso Mazzara Nardò si riscalda la tifoseria canarina Ben ritrovati a questa nuova edizione del Tg8 Informazione La salma di Fabio Risalvato, il giovane di 27 anni che a causa di un probabile improvviso malore caduto mentre era in sella al suo motorino si trova ancora all'obitorio del cimitero di Mazzara Il medico legale, il dottore Tommaso Lipari, ha fatto una ispezione cadaverica ma per l'eventuale autopsia si aspetta l'autorizzazione del magistrato Dal comando dei vigili urbani di Mazzara è stata inviata la documentazione al Tribunale di Marsala ma fino ad ora il magistrato non ha preso alcuna decisione Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane colto da un malore fulmineo sia morto sul colpo Polizia Municipale e Carabinieri si stanno occupando del caso Continuano i servizi straordinari per il controllo del territorio ad Alcamo da parte dei Carabinieri della locale Compagnia durante l'ultimo weekend sono state denunciate tre persone, controllati più di 200 soggetti e oltre un centinaio di auto Inoltre è stato sanzionato amministrativamente il gestore di un disco pub di Piazza Mercato poiché ha dato corso a pubblico trattenimento mediante l'impiego di gruppo musicale sprovvisto della relativa autorizzazione Raffica di denunce a Castelvetrano e Partanna nell'ambito dei consueti controlli del territorio operati dai Carabinieri della locale Compagnia Sentiamo i servizi Ammontano a 15 le denunce scattate a seguito dei mirati controlli del territorio effettuati dall'inizio del mese dai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano A Castelvetrano e da Marinella di Selenunte i militari delle locali stazioni hanno deferito in stato di libertà alla procura di Marsala 12 persone ritenute responsabili di furto aggravato di energia elettrica Da accertamenti effettuati con l'ausilio di personale dell'Enel è emerso che i 12 utenti usufruivano arbitrariamente di energia elettrica presso le loro abitazioni o presso le loro attività commerciali prelevandola dalla rete pubblica tramite cavi portanti A Castelvetrano e Partanna invece sono scattate complessivamente tre denunce per guida senza patente nei confronti di altrettanti conducenti sorprese a guidare senza patente perché mai conseguita o perché revocata Uno di loro, pregiudicato Castelvetranese di 40 anni è stato denunciato insieme alla sua convivente anche per oltraggio e minaccia pubblico ufficiale All'atto del controllo i due conviventi hanno proferito frasi ingiuriose e minacce all'indirizzo dei militari È stata revocata la concessione all'associazione Ius Vite Onlus di padre Antonio Garau di Papirolandia immobile che si trova in contrada guida loca di Castellammare del Golfo Il bene è entrato nella disponibilità del comune di Castellammare del Golfo il lo scorso 15 maggio 2004 e assegnato un mese dopo all'associazione Ius Vite di padre Antonio Garau per finalità sociali oggi risulta completamente abbandonato Nel corso del tempo l'associazione non ha adempiuto alla convenzione stipulata con il comune di Castellammare del Golfo Un proiettile da cannone risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato ieri tra i resti di una delle postazioni che ospitavano le batterie contro aeree e contro nave nella zona del Ronciglio di Trapani vicino al complesso Case Rosse attualmente adibito a centro di accoglienza per migranti Si tratta di un proiettile la cui presenza è stata segnalata la Guardia Costiera e i Carabinieri per gli opportuni provvedimenti Il processo d'appello per il sequestro di Denise Pipitone In attenzione alle battute finali dopo le perizie di Delfino e badalamenti sull'intercettazione riguardante il dialogo tra Jessica Pulizzi e la sorella nella prossima udienza si ascolterà la difesa e servizio Il processo d'appello per il sequestro di Denise Pipitone si avvia alla conclusione Venerdì 15 maggio 2015 si terrà l'udienza davanti la Corte di Appello di Palermo per la requisitoria del Procuratore Generale e per le arringhe delle parti civili Nella prossima toccherà ai legali dell'accusata Nell'ultima udienza del 24 aprile scorso la Corte d'Appello ha ascoltato i due nuovi periti incaricati dalla Corte Stefano Delfino e Badalamenti per verificare quanto ascoltato dall'altro perito Mendolia sempre nominato dalla medesima Corte e questi ultimi hanno affermato che non sentono la frase La mamma l'ha uccisa Denise I consulenti di parte civile, il dottore Indorato e ingegner Cirillo hanno messo in dubbio le metodologie usate dai due periti La prossima udienza, come abbiamo detto, sarà il 15 maggio per la requisitoria del Procuratore Generale e per le arringhe delle parti civili Si può affermare che alla fine di questo lungo giudizio di appello sono venuti alla luce molti più elementi rispetto a quelli già abbastanza sufficienti che vi erano al momento dell'appello Niente tagli a sindaci e consiglieri comunali i loro stipendi, almeno fino a giugno, resteranno intatti Lars ha deciso di non votare la norma che avrebbe ridotto subito i compensi del 20% per i primi cittadini e di una percentuale maggiore per i consiglieri Se ne riparlerà appunto ai primi di giugno La decisione è stata presa da una maggioranza trasversale a Lars, PD Forza Italia In 39 hanno scelto di non votare la legge e rispedirla in commissione Solo i grillini hanno invece pressato e votato per esaminare subito il testo ma non è andata come chiedevano loro Ma Baldo Gucciardi, capogruppo PD, ha difeso la scelta È giusto che leggi così importanti si scrivano insieme per questo siamo stati favorevoli a un breve rinvio A patto però che i tempi siano stretti entro 15 giorni la legge deve tornare in aula Intanto da giovedì tornerà in commissione La riforma delle pensioni dei dipendenti regionali dovrà passare nuovamente da Lars Sentiamo il perché nel servizio C'è un errore nella riforma delle pensioni regionali approvata a Lars due settimane fa Una parola sbagliata, appena una che secondo l'assessorato alla funzione pubblica va corretta prima di dar via all'esodo Si dovrebbe quindi tornare a Sala d'Ercole per approvare una nuova norma di un solo articolo Condizionale d'obbligo perché sulla vicenda ci sono vari dubbi di carattere giuridico Nell'attesa però non verrà emessa la circolare che fa scattare il countdown per chiedere di andare in quescenza Il problema rilevato dagli uffici dell'assessorato alla funzione pubblica guidato dal magistrato amministrativo Ettore Leotta è nella parola trattamento stipendiale complessivo utilizzata dal governo per individuare il parametro a cui agganciare il taglio della pensione d'ora in poi La norma approvata prevede che chi lascia in anticipo gli uffici avrà una pensione che non può superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni mentre oggi la pensione raggiunge anche il 108-120% E un emendamento successivo chiesto dall'assessore all'economia Alessandro Baccei ha fatto aggiungere la parola complessivi Dunque il parametro a cui agganciare il taglio è il trattamento stipendiale complessivo Facile? Niente affatto Secondo la funzione pubblica infatti bisognava scrivere trattamento retributivo o retribuzione complessiva Sarebbe questa la dizione giuridica corretta Una denuncia penale irrompe nella campagna elettorale in corso a Marsala Il reato ipotizzato in una querela presentata in procura dall'associazione SOS Marsala è usurpazione di titolo ed è contestato al 37enne Nicola Genna uno degli assessori indicati del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Antonio Angileri Nella querela si afferma che Genna in un video pubblicato su Facebook si autodefiniva architetto e invece secondo SOS Marsala Genna non si sarebbe mai laureato in architettura né di conseguenza né possiede il titolo professionale La denuncia prevede l'accertamento del fatto da parte della procura e un'eventuale sanzione pecuniaria inflitta dal prefetto su richiesta della magistratura Hanno vinto i contestatori Il tanto discusso comizio elettorale di Matteo Salvini a Marsala alla fine non è andato in scena Sentiamo Striscioni, slogan, bandiere siciliane, fischietti Una contestazione multicolorata eso in via Roma all'altezza di Largo Zerilli il leader leghista Matteo Salvini che avrebbe dovuto tenere un comizio a supporto della candidatura sindaco del marsalese Vito Armato Arrivato intorno alle 23 e dopo aver fatto attendere i presenti un'ora e trenta Salvini non è però sceso dalla macchina Con ogni probabilità sono state le forze dell'ordine a consigliargli di non sfidare i contestatori in una situazione ambientale obiettivamente difficile anche per le caratteristiche della location scelta dagli organizzatori per l'evento Giunta a controsenso da via Itria a Largo Zerilli la vettura su cui si trovava Salvini dopo una rapida valutazione da parte della polizia si è messa su via Roma girando poi verso via Mario Nuccio Evidente il disappunto di Vito Armato che ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di tenere il previsto comizio Prima di chiudere il candidato sindaco del movimento Noi con Salvini ha voluto comunque prendere la parola per replicare i contestatori Più mi fischiate più voti prenderò a urlato armato affiancato dal consigliere comunale trapanese Felice D'Angelo fra i principali sostenitori del progetto politico del segretario nazionale della Lega Nord I momenti di maggiore tensione tuttavia si erano registrati circa un'ora prima quando un giovane antifascista era quasi venuto alle mani con un militante di Casa Pound A quel punto la polizia ha schierato un gruppo di agenti in tenuta antisommossa di fronte ai manifestanti una scena inedita per una città come Marsala sicuramente abituata a scontri politici più soft Senza sosta quindi gli appuntamenti elettorali dei candidati a sindaco della città di Marsala domani alle ore 19 al comitato elettorale di via Mario Nuccio il candidato sindaco di Marsala Massimo Grillo terrà una grande manifestazione pubblica di apertura della campagna elettorale assieme agli assessori designati all'intera coalizione con tutti i candidati al Consiglio Comunale delle otto liste che lo sostengono diversi gli incontri anche per Di Girolamo dopo i numerosi appuntamenti di ieri in giro per la città per rilasciare interviste nelle varie emittenti locali per l'inaugurazione di alcuni comitati elettorali dei candidati al Consiglio Comunale sia nella lista Cambiamo Marsala che nel PD e vari incontri con i cittadini il dottor Alberto Di Girolamo candidato sindaco del centro-sinistra nel pomeriggio incontrerà ancora i cittadini in varie zone sia del versante nord che di quello sud che del centro storico per confrontarsi con loro sulle tematiche più varie e domani alle 21 al comitato del candidato sindaco del centro-sinistra Alberto Di Girolamo interverrà l'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Cleo Licalzi l'occasione sarà utile per parlare della progettualità sul settore inserita nel programma elettorale realizzato grazie al contributo di idee dei cittadini per lo sviluppo della città l'assessore del governo regionale che sostiene la candidatura di Di Girolamo si soffermerà insieme al candidato sul patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico di Marsala su cui basare una strategia politica per rilanciare ad ampio spettro lo sviluppo economico attraverso l'adeguata valorizzazione delle sue potenzialità turistiche Con le discariche siciliane ormai satura il presidente Crocetta e la protezione civile hanno ricevuto una nota da parte del Dipartimento Acque e Rifiuti nella quale si ipotizza il conferimento della spazzatura all'estero La lettera è partita in sordina Mittente il Dipartimento Acque e Rifiuti guidato da Domenico Armenio destinatari la protezione civile nazionale e lo stesso governatore Rosario Crocetta oggetto emergenza rifiuti in Sicilia Una nota con la quale la regione non solo torna a chiedere poteri speciali per affrontare quello che si annuncia un disastro imminente cioè il caos rifiuti con le discariche ormai stracolme ma per la prima volta mette nero su bianco l'ipotesi più volte ventilata la necessità di portare i rifiuti all'estero si legge in sintesi nelle ultime quattro righe della missiva Per carità è soltanto una richiesta prudenziale per non trovarci impreparati al peggio ma è evidente che il peggio non deve avverarsi e dobbiamo trovare una soluzione immediata dice il governatore Rosario Crocetta che da un lato getta acqua sul fuoco e dall'altro chiede tempi certi all'assessorato Energia guidato dal magistrato Vagna Contrafatto Convocherò subito un vertice con dirigenti e assessore perché da troppo tempo chiedo di avere il piano rifiuti e ancora non ho nulla in mano sussurra Crocetta da Palazzo d'Orlean mentre la Contrafatto assicura che il piano ci sarà il nodo però non è solo quello delle discariche ma anche la raccolta a rilento perché i comuni non garantiscono il servizio E' andata a deserta la gara d'appalto per il bando di gara relativo all'affidamento del servizio di trasporto marittimo passeggeri a mezzo agli scafi da e per le isole di Pantelleria, Pelage e Ustiche Per Pantelleria il bando prevedeva una corsa giornaliera andata e ritorno dal 20 giugno al 10 settembre sembra che ora si voglia procedere ad una gara trattativa privata per evitare che Pantelleria resti senza un collegamento veloce via mare con agli scafi Pantelleria e Lampedusa nei collegamenti marittimi con la terraferma possono contare di un solo collegamento con la compagnia delle isole con navi lente che impiegano 6 e 8 ore per arrivare da Trapani o da Porto Empedocle Il Consiglio Comunale di Mazzara è stato convocato in adunanza aperta per il prossimo 26 maggio alle ore 17 con all'ordine del giorno Belice Ambiente Emergenza Rifiuti Tra le tante istituzioni invitate vi sono anche Sonia Alfano commissario straordinario del lato TP2 Belice Ambiente e il liquidatore della Belice Ambiente Nicoralisma I rappresentanti sindacali e delle associazioni interessati al tema dovranno compilare il modulo richiesta e farlo pervenire all'ufficio del Presidente del Consiglio entro le ore 12 del 26 maggio La terza commissione consigliare lavori pubblici e urbanistica del Comune di Mazzara preseduta da Giuseppe Tumbiolo ha formalizzato al Presidente del Consiglio Vito Gancitano e al Sindaco Nicola Cristaldi una mozione che ha per oggetto l'ampliamento e la gestione dei loculi cimiteriali La terza commissione impegna l'amministrazione comunale a predisporre tutti gli atti necessari compreso la stesura di nuovi progetti che prevedano l'ampliamento del cimitero comunale e quindi dei loculi il miglioramento della gestione di quella parte del cimitero comunale già esistente nonché la verifica dei contratti esistenti con le società cimiteriali al fine di rendere dignitoso il luogo che ospita tutti i nostri concittadini che negli anni sono venuti a mancare e permettere così a tutta la cittadinanza di poter usufruire di tutti i servizi previsti senza alcun ostacolo I componenti della commissione sono Giuseppe Tumbiolo, Giorgio Randazzo, Giacomo Cangemi, Antonino Zizzo e Matteo Bonmarito al comune di Castelvetrano sono stati destinati circa 2 milioni di euro dei 90 previsti dal governo per le zone franche e urbane in attesa dei bandi per accedere al finanziamento il sindaco errante mostra piena soddisfazione per questa nuova occasione di rilancio economico sentiamo Il Ministero per lo sviluppo economico ha individuato le somme per il rifinanziamento delle agevolazioni per le 55 zone franche e urbane italiane Il Ministero ha previsto lo stanziamento di ulteriori 90 milioni di euro per il biegno 2015-2016 per le 55 zone franche e urbane presenti nelle varie regioni italiane tra queste ovviamente rientra quella di Castelvetrano che otterrà un finanziamento di poco meno di 2 milioni di euro Sono in fase di definizione i nuovi bandi che indicheranno i nuovi criteri per la partecipazione ai benefici concessi dalla legge che saranno una tangibile occasione per continuare a sostenere una ripresa economica cittadina Le aziende che avranno diritto alle agevolazioni potranno ottenere agevolazioni fiscali per diversi anni e fino ad esaurimento della somma assegnata Lo scorso anno, col precedente bando 110 imprenditori di Castelvetrano hanno ricevuto benefici fiscali per circa 80 mila euro ciascuno Il sindaco ha voluto manifestare la sua soddisfazione Siamo particolarmente soddisfatti per il positivo prolungamento di quello che è stato un importante strumento per favorire le imprese locali Il dato medio sulle fruizioni a distanza di un anno dalla concessione è particolarmente positivo e siamo certi che con i nuovi bandi daremo un'ulteriore e preziosa boccata di ossigeno per le imprese locali che potranno così pensare a nuove assunzioni Un modello innovativo e sperimentale di assistenza alla disabilità e alla non autosufficienza Il Comune di Mazzara in tal senso ha pubblicato il bando sull'albo pretorio online del portale istituzionale Nella sezione bandi avvisi il pubblico incanto del progetto è affidamento della gestione del progetto Home Care Premium 2014 nel suo complesso secondo quanto disciplinato dal regolamento di adesione e gestione Home Care Premium 2014 sia per le attività relative al modello gestionale sia per le prestazioni integrative complementari in esso previste Il termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato per il prossimo 28 maggio alle ore 13 L'importo complessivo del servizio è di circa 80.000 euro Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria di attività adeguate e pertinente allo svolgimento delle attività previste La ditta cucchiara Fina Daniele è la giudicataria dell'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Mazzara del Vallo La determina dirigenziale a firma del dirigente del terzo settore l'ingegnere Stefano Bonaiuto approva il verbale di gara e determina l'affidamento dei lavori Il progetto redatto dal geometra comunale Giuseppe Fasulo prevede interventi manutentivi in alcune strade della città già individuate che presentano delle criticità per le quali si è reso necessario l'intervento I lavori consistono nella sistemazione di buche e basolato oltre al ripristino di alcune orlature di marciapiede che maggiormente necessitano dell'intervento Al via Mazzara la derattizzazione del territorio comunale in attuazione dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco Cristaldi nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile e sanitaria di pubblica sicurezza Gli interventi sono stati affidati all'impresa specializzata e di l'ambiente SRL di Mazzara che da oggi e per cinque mesi effettuerà la derattizzazione delle vie e strade comunali con priorità nelle zone maggiormente segnalate dai cittadini e accertate dal settore tecnico per la presenza di ratti e topi La nuova tipologia di intervento che viene ripetuta per un periodo di cinque mesi è effettuata senza alcun pericolo per la salute ed è mirata a liberare il territorio dalla presenza di ratti soprattutto nelle zone adiacenti le scuole e i siti sensibili Il costo complessivo dell'intervento è di circa 12.000 euro Il Tribunale di Marsala diventa modello di efficienza per l'Italia Per Gioacchino Natoli all'indomani della nomina Presidente della Corte d'Appello di Palermo arriva l'ennesimo riconoscimento Il Presidente del Tribunale di Marsala, Gioacchino Natoli lunedì ha salutato gli avvocati, colleghi e professionisti con cui ha lavorato dal 2011 E' stato infatti nominato Presidente della Corte d'Appello di Palermo coronamento di una carriera sempre in prima linea Sempre ieri arriva per Nato il regalo più gradito Con grande sorpresa degli addetti ai lavori, ma non tutti le indiscrezioni circolavano già da tempo il Ministero della Giustizia certifica che il Tribunale Marsalese diventa protagonista di una rivoluzione che punta a un obiettivo di tutto rispetto rendere al Sud una giustizia civile sufficientemente celere come quella che si inizia a intravedere in alcuni tribunali del centro nord a partire da Rovereto, Trieste, Lanciano, Asti, Verbania, Aosta e Torino E' il modello Marsala, cognato dal Presidente del Tribunale Gioacchino Natoli dimostra che sulla giustizia civile si può fare addirittura meglio rispetto alle buone pratiche adottate con successo al centro nord a partire dalla capofila Torino Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul suo sito lo studio sulle performance dei tribunali civili curato da Roger Abravanel con Stefano Proverbio e Fabio Bartolomeo pianificato dall'Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull'economia delle riforme della giustizia presieduto dal ex guardasigilli Paola Severino 2 milioni di cause e delle 5 milioni pendenti prese in esame 139 tribunali messi in classifica considerando la capacità di smaltire vecchi processi e non solo valutazione dei costi derivanti per l'erario dalla giustizia lumaca 600 mila processi troppo lenti ai fini della legge pinto sulla ragionevole durata del processo che ammontano a 316 milioni di euro già spesi e a 406 ancora da tirare fuori il sindaco di Mazzara Nicola Cristaldi ha emanato l'ordinanza numero 81 per il taglio di rami e alberi ricadenti in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del comune di Mazzara del Vallo nell'ordinanza il primo cittadino invita tutti i proprietari o comunque detentori a qualsiasi titolo di aree fondi e immobili prospicenti la linea ferroviaria lungo il tratto che interessa il territorio comunale di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e la loro propagazione i contravventori sono passibili di sanzioni amministrative da 25 a 500 euro un mondo di energia più sostenibile, fonti tradizionali rinnovabili, efficienza energetica, smart grids, smart city sono questi gli interessanti temi dell'incontro organizzato questa mattina dall'istituto comprensivo Paolo Borsellino di Mazzara del Vallo nell'ambito del progetto Play Energy Sicilia al quale partecipa l'istituto mazzarese preseduto dalla professoressa Filomena Bianco per l'amministrazione comunale rappresenta il vice sindaco Silvano Bonanno presenti all'incontro tra gli altri Francesco Guadalupi, Giussi Rossi e Francesco Lapiana responsabili Play Energy per la regione Sicilia e NLSPA mentre l'IMC CNR di Mazzara del Vallo è stato rappresentato dal geologo Giorgio Tranchida la dirigente scolastica professoressa Filomena Bianco ha ringraziato l'amministrazione comunale e i relatori per la partecipazione a un progetto concorso che coinvolge gli studenti delle terze classi dell'istituto comprensivo che attraverso studi ed elaborati acquisiscono conoscenze e piena consapevolezza dell'energia sostenibile con provvedimento della segreteria confederale UGL è stato nominato reggente dell'Unione Territoriale UGL di Trapani il dottore Giovanni Condorelli Per il ciclo appuntamenti oggi dalle ore 17.30 alle ore 19 si terrà il 14esimo incontro della scuola biblica del seminario Vescovile di Mazzara del Vallo il tema principale dei prossimi appuntamenti sarà la conoscenza e l'attualizzazione della seconda parte del Vangelo secondo Giovanni la partecipazione alla scuola è gratuita gli appuntamenti formativi si svolgono presso il seminario Vescovile nella piazza della Repubblica al Civico 13 si terrà a Trapani domani alle ore 17.30 a Palazzo Dalì la tavola rotonda dal titolo I professionisti dell'antimafia, preimpegno civile e crisi etica porteranno i saluti Vito Damiano, sindaco di Trapani Giuseppe Vica, sindaco di Custonaci e Fabrizio Fonte, presidente del centro studi dinogrammatico interverranno Nicola Clemenza, responsabile provinciale dell'Associazione Libero Futuro Felice Errante, presidente del Consorzio Legalità e Sviluppo della provincia di Trapani e Nello Musumeci, presidente commissione antimafia Lars modererà l'incontro Riccardo Pellegrino, sociologo dell'Università di Palermo si terrà domani dalle ore 19 alle ore 20 presso la parrocchia Cristo Re di Mazzara del Vallo l'adorazione eucaristica per le vocazioni questa occasione di esperienza ecclesiale cittadina ricorderà ancora una volta che ad ogni comunità cristiana e da ciascun battezzato è chiesto di pregare e lavorare per l'incremento delle vocazioni e i ministeri ordinati alla vita missionaria, alla professione dei consigli evangelici venerdì 15 maggio si terrà la serata evento dedicata alla promozione delle eccellenze agroalimentari e di piatti della tradizione del territorio belicino organizzata dal club unesco Castelvetrano Selinunte in collaborazione con l'associazione gastronomica Shane de Rotisseur Trapani l'appuntamento è alle ore 20 e 30 presso il ristorante La Collinetta in via Giovanni Paolo II a Castelvetrano alle ore 18 è prevista una visita guidata della chiesa di San Domenico del Museo Civico e del sistema delle piazze Domenica 17 maggio 2015 con partenza alle ore 17 e 30 dalla scalinata Santa Rita di Castelvetrano si snoderà per le vie del centro storico la tredicesima edizione del corteo storico in tutto il suo splendore il corteo quest'anno non si avvarrà di gruppi ed artisti di tiratura nazionale ma si limiterà alla sola partecipazione degli sbandieratori, tamburini e musici medievali rappresentati dal prestigioso gruppo storico Città di Caccamo e dal gruppo dei Tamburi Aragonesi Banda storica voluta fortemente e creata dal centro studi sugli usi, costumi e tradizioni medievali Gennaro Bottone proprio in memoria dello storico presidente scomparso alcuni anni fa Sono iniziati ieri allo stadio Paolo Marino di Castelvetrano i lavori di sistemazione del terreno di gioco l'operazione è di fatto non più rinviabile, è stata fortemente voluta dalla società Folgore Selinunte che si farà carico di tutte le spese previste lavori che grazie alla tempestività con la quale sono stati avviati termineranno in tempo per l'inizio della preparazione atletica preludio della prossima stagione che la Folgore Selinunte vuole vivere da grande protagonista Mancano solo quattro giorni alla gara di andata della semifinale playoff fra Mazzara e Nardò in città sembra essere tornata la voglia di calcio Sentiamo Questa è la settimana più importante e delicata della preparazione ai playoff lo afferma Nicola Ragno allenatore del Nardò che domenica prossima affronterà in trasferta a Mazzara nel match di andata delle semifinali dei playoff nazionali d'eccellenza Il tecnico del Nardò ha tratto dal gruppo nei giorni scorsi di lavoro delle indicazioni positive Le condizioni della squadra sono buone, ha detto abbiamo lavorato per mantenere la tenuta atletica cercando di abituarci alle temperature e al clima afoso di questo periodo Dal punto di vista mentale i ragazzi stanno bene lo dimostrano anche le amichevoli che sono il resoconto del lavoro svolto in settimana È stato fondamentale, conclude Ragno, curare l'aspetto mentale per evitare un rilassamento vista l'assenza della pressione della partita della domenica I ragazzi hanno risposto bene L'allenatore del Mazzara Nicola Terranova conosce bene il prossimo avversario e dice subito Non temiamo nessuno come abbiamo fatto in campionato Le partite si vincono e si perdono anche per episodi Speriamo che questa volta ci siano favorevoli grazie alla nostra prestazione Mazzara affronterà l'avversario a viso aperto perché vogliamo fare il risultato come loro Anche noi giochiamo per la Serie D Da ieri sono ripresi gli avvenimenti che si potranno intensamente per tutta la settimana Negli spareggi tra l'altro bisogna schierare due under e non tre I ragazzi sono di una disponibilità unica, continua Terranova Non si tirano indietro e vogliono andare fino in fondo a questa avventura che all'inizio del campionato non era sicuramente messa in conto Andiamo avanti a testa alta Il Comune dà una mano Ha messo a disposizione 750 biglietti Nella speranza che vengano tutti distribuiti Al costo unitario di 10 euro per il Comune Da parte di associazioni, enti sociali e singoli cittadini Che rientrano nelle categorie dei disabili Degli anziani e dei minori dai 14 a 18 anni Da lunedì scorsa fino a sabato 16 maggio Gli interessati dovranno rivolgersi direttamente Presso l'ufficio affari sociali delle comune Nel palazzo della carità di via Giotto Muniti del documento di riconoscimento Per ritirare il coupon E avere l'ufficio aperto anche nel pomeriggio fino alle 18 I taglianti in prevendita sono disponibili invece Presse i seguenti punti vendita a costo di 10 euro Bar stadio, ricevedere Tuminello via Castelvetrano Agenzia scommesse Betalande lungo mare Mazzini Bar Pitti via Val di Noto 7 I biglietti al botteghino costano tribuna 12 euro Gradinata settore ospiti 10 euro, curva 5 euro Si svolgerà venerdì 15 maggio dalle 18.30 Presso lo stadio comunale Nino Vacara di Mazzara del Vallo Il primo memorial Tony Lisma L'indimenticato calciatore che per molti anni ha indossato la maglia giallo-blu E prematuramente scomparso nel gennaio del 2014 Sono stati gli amici più cari a volere ricordare la figura di Tony Con un memorial in suo onore il giorno del suo compleanno Vecchi compagni di squadra ma anche amici di sempre Ragazzi che con Tony hanno condiviso momenti di vita Si incontreranno allo stadio Nino Vacara Per disputare una partita di calcio E per incontrarsi sugli spalti dello stadio comunale E' in corso di svolgimento ad Augusta La giornale ha due giorni dedicata alle finali di pallavolo maschile Categoria under 15 La pallavolo Mazzara 95 dopo la vittoria per 3-0 Contro la Nissa Volley nella prima giornata di gare Oggi è uscita sconfitta dalla semifinale Contro la formazione catanese del Javi Pedara Mancata per un soffio la finale Il sestetto guidato da Anthony Ferro Si può comunque consolare con il gradino più basso del podio E con questa notizia anche per oggi siamo arrivati in conclusione Il prossimo appuntamento con l'informazione è per domani alle ore 14 Buona serata Il prossimo appuntamento con il